Ben ritrovati da Fabrizio Laddago, buone feste da Radio Gold con il nostro approfondimento che quest'oggi è dedicato al Natale o meglio alla religione. Lo facciamo perché ormai parte il periodo delle feste, un'occasione per riflettere anche in questo momento delicato per la città soprattutto e poi per la provincia. Ci ha raggiunto il nuovo Vescovo di Alessandria che quindi gli ascoltatori di Radio Gold hanno già conosciuto con diverse interviste ma che questa volta abbiamo l'onore di avere qui nei nostri studi e quindi ben ritrovato Su Eccellenza Monsignor Guido Gallese. Buona giornata a tutti. Un Vescovo che piace già a tutta la città. Intanto io racconto un pochino se posso permettermi come è arrivato qui in redazione, il citofono ha suonato, ha detto Monsignor Gallese quindi già ci ha stupito il fatto che arrivi da solo e poi questa sua bicicletta pieghevole che ha riposto proprio prima dello studio quindi un grande dinamismo eccellenza da parte sua e questo forse è quello che piace, l'elemento che piace a molti fedeli, a molti cittadini di Alessandria. Ma sono così, sono normale. Io ho paura di sentirmi un po' prigioniera di la verità in questo ruolo di Vescovo e mi pare che non sia un problema se faccio un po' di bicicletta tanti è un problema per la mia salute se non lo faccio quindi non mi astengo dal farlo. Ecco, ho un Vescovo che sorride sempre perché molti fedeli che abbiamo incontrato hanno detto è sempre sorridente a questa faccia che trasmette serenità. Perché questo sorriso? Perché io sono felice, sono un uomo felice, ringraziando il cielo sono un uomo felice perché ho incontrato il Signore, non perché non ho avuto problemi ma perché ho incontrato il Signore, il Signore mi ha cambiato la vita e sono felice pur nei miei limiti che conosco che mi danno molto fastidio ma con cui convivo tranquillamente perché so che il Signore mi aiuta. Ecco, ho visto che lei li cita, quali sono i suoi limiti? Ah, ce n'ho tanti, 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 non so neanche da che parte cominciare. Quello che proprio non le piace? Una cosa che non mi va, beh, ce n'ho tante, non so da che parte cominciare veramente ma una cosa che non mi va giù di me è quando dimentico le cose, una scocciatura veramente. Da un po' fastidio, indubbiamente. Sì, sì, e ne dimentico in quantità industriale, cioè sembro un malato di Alzheimer. Ma non è così, anche perché lei è il più giovane vescovo d'Italia, 50 anni, ecco, come prende questa notizia, come ha preso questa notizia? Mi fa piacere oppure è un peso anche questo? Lo vivo un po' come in terza persona, non so come dire, nel senso che è una cosa che mi stupisce un po', mi sembra strana, mi è arrivata addosso così e me la prendo così, ecco, non è che non ci posso fare niente, è così e me la prendo così. Ecco, è molto divertente anche il racconto che ha fatto quando ha preso questa notizia, nel senso che lei non si riteneva all'altezza, però ha detto il Signore se così ha voluto avrà un suo disegno, però questo è stato molto bello, nel senso che lei ha detto io non sono capace di fare il vescovo di Alessandria, mi correga se sbaglio, è così effettivamente, è questo che ha pensato? Io la penso così, io quando ho cominciato le prime voci su di me ho cominciato a pensare che sono degli squilibrati, ho detto ma la chiesa doveva finire, sono degli responsabili, poi uno prega, si mette avanti al Signore e al Signore gli ho detto, senti Signore, qui le cose stanno in questo modo, se è una cosa che viene dagli uomini impediscila assolutamente, se poi viene da te io mica posso dirti no, ecco pensaci bene. Ecco interessante che lei dia del tu al Signore tra l'altro. Per forza, mi dobbiamo dare di lei. È molto divertente, allora andiamo invece proprio a questo rapporto, suo primo approccio con Alessandria, com'è stato? Bellissimo, io mi sono trovato benissimo, ho avuto un'accoglienza stupenda e sto dicendo in questo periodo che o così o forse un po' sono innamorato si vede, perché io vedo tantissime cose bellissime, sono stupito delle risorse che ci sono, anche culturali, oltre che religiose, cose incredibili, veramente sono proprio contento. Ecco, lei passa da una realtà ligure che lei ama molto, lei ama molto il mare, è vero? Le manca un po' il mare ad Alessandria? Un po', sì. E questo manca. Il fatto che noi genovesi abbiamo questo problema, che girando un angolo ci aspettiamo sempre di vedere questo orizzonte infinito, e invece qui si gira e non c'è mai. E quindi non è rassicurante. Questa è una cosa che manca, certo. Anche, c'è una consolazione però, eccellenza, cioè il fatto che Fossati, per esempio, dice che anche ad Alessandria si sente il mare, lei lo sente comunque oppure no? Ma io il mare ce l'ho dentro, sì, effettivamente. Sono un essere marino, profondamente marino, ce l'ho dentro, mi viene in mente tante volte, io tante volte penso al mare, per quando penso alla mia vita, nel senso che è fonte di grandi insegnamenti, soprattutto una delle cose che mi colpisce di più del mare sono le onde, ho usato diverse volte questo paragone, perché mi piace da matti il mare agitato. Sono sempre andato a fare il bagno quando c'era il mare mossa, anche quest'estate non ho resistito alla tentazione, un paio di volte sono andato a fare il bagno con i miei nipotini, o nipotoni, dipende un po' da l'alzature, e il mare mi piace moltissimo, sia un riferimento psicologico per me. Ecco, eccellenza, noi abbiamo studiato, sappiamo anche che lei fa riferimento molto spesso proprio al mare, perché ha sottolineato come l'acqua del mare, naturalmente poi l'acqua in generale, sia composta da tante molecole che insieme fanno questa impressionante onda d'urto, se sono compatte, no? Anche questo è un bel esempio di che cosa possa fare l'uomo se si unisce. L'uomo ha maggior ragione, se lo fanno le molecole che sono quello che sono, l'uomo con la sua ricchezza, con la sua potenzialità insieme può fare delle cose assolutamente inimmaginabili. Già il singolo individuo ha delle risorse che non conosce nemmeno lontanamente e non immagina. Io lo vedo come pastore, quando una persona incontra il Signore, fa delle cose che non avrebbe mai nemmeno immaginato, e scopre di sé delle cose che non avrebbe mai nemmeno immaginato. E quindi insieme non ne parliamo ancora di più. Allora, noi rimaniamo insieme perché andiamo in pubblicità, poi ancora con Sua Eccellenza per discutere di Natale, ma anche per ascoltare insieme a lei qualche impressione dei cittadini, quando è proprio intervenuto in Duomo nella sua prima omelia. Pubblicità e poi ancora con Monsignor Gallese. Ben ritrovati da Fabrizio Laddago, ancora con Sua Eccellenza Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria, insediato da pochissimo. Noi con lui abbiamo già intavolato il discorso, ci ha raccontato un po' come ha vissuto questo approccio con la città e con la diocesi. Eccellenza, io a questo punto però le faccio sentire che cosa pensano i cittadini, cosa hanno pensato i cittadini proprio dopo la sua prima omelia. Quindi sentiamo una persona all'uscita dal Duomo di Alessandria, sentiamola insieme. Mi è piaciuto molto come si è presentato ai ragazzi, con parole semplici, soprattutto il commento della lettera di San Paolo, e devo dire che ho avuto veramente una buona impressione. Molto coinvolgente, soprattutto ecco, perché ho visto poi la reazione, io ero in fondo alla chiesa, ho visto la reazione dei ragazzi, li ho visti molto compresi, hanno partecipato molto, poi mi hanno detto che c'erano un centinaio di ragazzi stamattina a fare la prima colazione perché hanno lavorato i nostri ragazzi del San Paolo. Veramente mi è piaciuto molto, poi l'ho sentito molto semplice, come ha detto la mia amica, ha detto che, cosa hai detto, tu dillo, dillo. Mi sembrava parlasse come un libro d'amore. Sì, davvero, è stato molto semplice, penso gradito a tutti, perché è assolutamente comprensibile, perché molto spesso voli pindarici, come si suol dire, no, davvero, mi è piaciuto molto. Per cui speriamo davvero, mi auguro davvero che possa servire davvero a questa nostra comunità, Alessandrina, che ha molto bisogno soprattutto nei giovani. Ecco, eccellenza, io non so se sarei più contento oppure no rispetto a questa introduzione, perché è un bel impegno adesso da sopportare. Eccellenza, oppure no? Che cosa ne pensa? Sì, è un bel impegno. Beh, sono contento. Se la gente è contenta di me, sono contento per loro, ecco. Sì, io sono semplice, perché mi sono un po' abituato così. Ero parroco di campagna e mi ricordo che quando ce l'avevo messo in una certa parrocchia c'era una signora che se andava un pochino sopra un certo livello mi diceva Don, ho la quinta elementare. Durante l'Ommenia me lo diceva. Questo non è male. E così mi sono abituato a essere semplice nel parlare e anche nello stare con i giovani. Pur avendo l'impegno dell'insegnamento di livello universitario e quella filosofia, no? Quindi questo è poi il difficile come diceva lei esattamente proprio quello di riuscire a tenere a tenere alte queste aspettative cioè riuscire a realizzare queste aspettative che ci sono. Io non lo so, sono qua e mi fido di Dio e vedremo. Io spero che il Signore ce la faccia anche attraverso di me. Intanto ci sono anche i giovani con cui lei ha avuto moltissimi rapporti perché ci tiene molto proprio alla gioventù l'ha rimarcato ancora nella sua prima omelia ha avuto questo primo approccio il sabato precedente alla domenica di insediamento e i giovani hanno risposto tra l'altro poi faremo un invito anzi lo farà lei naturalmente perché io non mi posso permettere un invito proprio rivolto ai ragazzi ascoltiamo insieme un giovane all'uscita dal Duomo di Alessandria. Mi piace perché è giovane gli interessa il destino dei giovani e alla mano insomma Vi aspetta a Rio de Janeiro andate? Manderemo qualcuno di più giovane Ecco intanto ricordiamo qual è il regalo che lei ha chiesto alla città e alla sua dioce Sì ho chiesto il regalo di mandare dei giovani a Rio de Janeiro e di abbassare il prezzo del biglietto perché in questo tempo di crisi un giovane che sta studiando e non sta lavorando non si può certo permettere di pagare 2.000 euro siamo riusciti a scendere fino adesso a 1.500 euro per andare alla GMG e spero che continuino a arrivare i soldi perché vogliamo mandare più giovani e se possibile abbassare ancora il prezzo perché la giornata mondiale della gioventù è un evento veramente incredibile che segna al cuore la vita di una persona allora se riusciamo a accumulare questo capitale umano per Alessandria credo che sia un grande dono Ecco come coinvolgere però i giovani perché molto spesso si pensa che siano distanti dal mondo religioso della chiesa ecco come intende farlo tra l'altro in una provincia che è la più vecchia in assoluto tra le più vecchie in Italia Ma più vecchia di Genova non credo proprio La Liguria è vera è molto è la più anziana in assoluto La più vecchia in assoluto è la Liguria e mi ricordo che qualche anno fa l'indice di denatalità della Liguria era il più basso di natalità il più basso di denatalità il più alto era il più alto d'Italia l'Italia era il più alto in Europa l'Europa era il più alto nel mondo Ecco Quindi c'era questo record terribile perché in Liguria si va anche a svernare dico l'inverno della vita Certo E qua quindi è più giovane Alessandria quindi io non avverto questo senso di anzianità ma io trovo che i giovani abbiano molto più della mia generazione il senso religioso molto più forte perché i giovani sono non toccati dall'ideologia questa è una cosa bellissima perché li rende veramente aperti non hanno dei muri mentali dentro e loro percepiscono molto immediatamente il senso di Dio a me piace moltissimo questo nei giovani per cui sono in grado di valutare io poi non ho paura che questi scelgano in modo sbagliato cioè non è che li devo devo fare il venditore cercando di tirarli per la giacca dalla mia parte io su questo sono molto sereno cioè io sono convinto di quello in cui credo per cui lo dico poi uno con molta libertà deve fare le sue scelte e viversi la vita nel modo migliore l'importante è che diventi felice io sono sicuro che Gesù è quello che ci fa diventare veramente felici è giusto che trasmetta anche questo messaggio ecco anche perché forse i giovani in passato erano quasi costretti mi si permette il termine ad andare a messa nel senso che era quasi una forzatura perché si faceva così bisognava andare adesso è una scelta quasi autonoma condivide questa opinione sì è una scelta molto più autonoma una volta c'era una cultura del si deve fare così dietro la quale purtroppo non c'era un'interiorizzazione adeguata dei valori erano rimaste le norme ma non c'era un vissuto che tenesse il passo con la verità delle norme perché erano anche vere però se una norma è vera e tu dici bisogna andare a messa ma poi a messa ci vai come un soprammobile beh non è una grande educazione che dai ai figli certo e quindi il figlio la percepisce come un peso perché non la vede come una cosa bella io mi ricordo quante volte ho guardato mia madre a messa e pensavo chissà cosa sta pensando adesso la mamma che la vedevo proprio raccolta nella messa no? e io sono venuto su con questo esempio molto grande no? e mi rendevo conto che mia madre era come di fronte a un mistero che io non riuscivo assolutamente né a immaginare né a percepire se invece c'è un insegnamento basato sulla norma beh il cristianismo non è una questione di norma certo certo ecco c'è anche da dire che però i giovani sicuramente sono insidiati anche da diverse altre realtà tipo il divertimento che molto spesso eccede una società che molto spesso anche tende ad appiattire proprio alcuni ideali condivide questo e così effettivamente è più problematico raccogliere i giovani e avvicinarli alla fede secondo lei? ma c'è questo divertimento sì è un problema enorme perché un giovane in prima battuta viene preso dalle cose più sensibili quindi dal divertimento e ce l'abbiamo veramente a portata di mano e a bassissimo costo quindi uno ce l'ha sul telefonino ce l'ha sul computer su internet ce l'ha dappertutto ci sono fabbriche di divertimento in grandissima quantità intorno a noi è un problema è un vantaggio è un problema perché uno può essere sviato da questo chiedo scusa è un problema perché uno può essere sviato da questo ma è anche un vantaggio perché uno forse prima quando fonda male i suoi valori prima si rende conto di averli fondati male perché sente questa sete sorda che rimane sotto la sete della verità della bellezza dell'interezza della vita del senso profondo della vita il divertimento ha questo punto tragico che quando è finito uno è triste qui sta la differenza cioè si sente vuoto è passato il momento del divertimento appena dopo precipita nel senso della perdita di senso del nulla e al proposito mi viene in mente un raccontino simpatico quando eravamo a San Sebastian durante la giornata mondiale della gioventù è capitato che andando in cattedrale stavamo facendo era al mattino presto 8 del mattino che per la Spagna sono un po' come le 6 nostre domenica mattina andavamo per la messa in cattedrale facciamo il lunghissimo lungomare di San Sebastian e in questo lungomare capita che i nostri ragazzi erano tutti un po' sfilacciati una ragazza si trova vicino a un a un giovane che tornava a casa dopo la notte un po' ubriaco decisamente ubriaco questa ragazza se la vedete a fianco camminano un po' e poi gli dice parlando in spagnolo mi ha detto Don io non so come ho fatto ma ho parlato in spagnolo anche se non l'ho mai studiato ma come mai sei ubriaco e questo dice eh perché la vita cosa vuoi se non ti ubriachi è l'unica cosa che hai da fare notare bene questo non era ancora arrivato a casa che già malediceva la vita cioè contento e questa ragazza dice ma no ma la vita è una cosa bellissima guarda me io sono felice e questo la guarda un po' e fa avrei bevuto anche tu e lei dice no io non ho bevuto è che io credo in Gesù e questo dice ah il papa la chiesa è partito con le tiri tiri solite che sappiamo che sono quelle un po' del luogo comune no e lei dice ma no ma non è così guarda anche gli altri noi siamo felici seguiamo il papa non stare a dare ascolto a queste voci cerca di guardare alla realtà noi siamo felici perché seguiamo Dio gli ha fatto tutto un bel discorso e alla fine si è fermata l'ha abbracciato gli ha puntato il dito davanti al naso e gli ha detto ricordati qualunque problema tu abbia tu troverai uno che ti ascolta sempre e che ti ama Dio e questo si è messo a piangere che fa un po' effetto perché anche un giovane che è tornato dal divertimento e che è ubriaco certe cose le capisce benissimo e quindi questo è un bel messaggio che diamo pubblicità ancora informazione poi ritorniamo con sua eccellenza per parlare anche degli adulti eccellenza direi perché è importante i giovani sono il futuro ma intanto c'è anche il presente pubblicità e informazione ancora ben ritrovati da Fabrizio Laddago siamo sempre con il nostro approfondimento dedicato all'informazione ma dedicato anche a questa giornata così speciale in collaborazione anzi in compagnia scusate con sua eccellenza Monsignor Guido Gallese Vescovo di Alessandria eccellenza abbiamo parlato dei giovani parliamo anche degli adulti perché la religione ci accompagna nella vita nella vita di tutti chi abbraccia naturalmente poi la religione religione che fa i conti però con una società che evolve quindi che cerca di essere moderna se vogliamo con tutti i problemi connessi ci sono diverse questioni anche al vaglio poi della singola religione però io comincerei proprio da questo cioè dagli adulti e che ruolo hanno in questo momento per nella fede ecco cominciamo da questo sì gli adulti hanno un ruolo importante perché è quello educativo il problema grave è che gli adulti hanno perso la capacità di educare l'abitudine a educare e si tende molto a a scaricare questa responsabilità a demandarla ad altri questa è la ragione per cui nella chiesa nella conferenza episcopale italiana i vescovi hanno deciso di proporre un decennio sull'educazione perché vogliamo prima di tutto riflettere su questo tema importantissimo l'educazione perché noi abbiamo ricevuto dei doni dobbiamo darli e l'educazione è una cosa importantissima il pensare che esiste un'educazione neutra è un mito veramente ingenuo che bisognerebbe sfatare se qualcuno ancora ce l'avesse bisognerebbe assolutamente che si ravvedesse perché non esiste un'educazione neutra è come se noi dicessimo a un figlio guarda aspetta 18 anni e poi scegli tu gli studi che fai non si può perché uno a 18 anni non impara più niente perché nel frattempo la sua cultura si è formata perché era il tempo di formarla prima di 18 anni e se noi usiamo dei criteri simili e un po' talvolta si usano con i figli bene si fa loro un danno perché si diventano inabili a vivere certe situazioni perché non è più la stagione e allora gli adulti purtroppo sono passati anche attraverso questo e chi non ha avuto certe formazioni solide patisce soffre molto perché riguadagnare certi così beni capitali spirituali ed educativi in età avanzata è molto 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 più faticoso che all'età giusta perciò la prima riflessione è proprio su questo su chiederci come siamo se siamo capaci di educare se abbiamo voglia di educarci anche noi e di lasciarci educare di crescere di stimolarci è faticoso però se non abbiamo voglia di questo poi non riusciamo neanche a darlo tutto questo ecco con il pensiero maturo però si innescono anche delle discussioni un pochino più profonde tra virgolette si parla ad esempio di religione e soprattutto di le contestazioni che spesso vengono fatte il cristianesimo è una sorta di arretratezza rispetto a temi importanti facciamo qualche esempio l'eutanasia l'omosessualità ecco che cosa pensa di questi di questi concetti che vengono espressi nei confronti della chiesa ma innanzitutto che sono spesso luoghi comuni brutti brutti luoghi comuni io invito la gente punto primo ad ascoltare cosa dice il papa veramente e qui mi permetto bypassate giornalisti televisioni radio per favore visto che è possibile attingere direttamente al santo padre perché non sono tanto fedeli mi prometto di tirar le orecchie alla categoria ma che i giornalisti esiste un sito vaticano sul quale è facilissimo ricercare le cose è bene approfittarne ci sono anche le registrazioni io uso le registrazioni dell'omelia del papa le metto sul mio iphone e ogni tanto me le sento per strada e sono bellissime tra l'altro un uomo dolcissimo che dice delle cose veramente semplici e vitali per cui la prima cosa che io dico è cerchiamo di conoscere veramente com'è la realtà perché a qualcuno fa bene fa comodo fare la caricatura del nemico per poi lanciarci le freccette e purtroppo succede che tanto spesso si cade in queste trappole il nostro desiderio è dialogare con tutti e noi siamo pronti a dialogare con tutti ma non dialogare sulla base di caricature inesistenti la chiesa ha delle visioni che certamente si scontrano con talune visioni del mondo che oggi vanno per la maggiore ad esempio il caso della vita sul tema della vita tanto per fare un esempio il Papa come è stato interpretato l'ultimo il messaggio del Papa per la giornata mondiale della pace del primo gennaio diciamo che il riassunto che è stato fatto in taluni titoli è faticoso riuscire a pensare che non sia stato fatto in cattiva fede leggendo il discorso cioè se uno va a leggerselo uno fa un po' fatica a pensare che uno non abbia fatto una cattiveria induce a pensare male queste cose e quindi dicevo il discorso sulla vita certo la Chiesa ha un pensiero che rispetto ad altri pensieri che girano oggi si discosta eppure è profetico è molto profetico perché guarda distante guarda non il singolo caso che a volte viene presentato in modo molto pietistico e assolutistico ma guarda ben al di là sul significato e sul senso del valore della vita che è importantissimo perché una civiltà che ha il valore della vita al primo posto sicuramente la cura se ne prende cura in tutte le sue forme anche le più deboli e immettere delle concessioni riguardo alla vita su certi temi quando la vita è più debole significa avvicinarsi pericolosamente a posizioni che sono molto pericolose che lo hanno dimostrato una storia anche recente di calpestare la vita umana perché è un attimo che le categorie più deboli possono essere perseguitate in modo pesante quando si ha un basso olore della vita quindi c'è tutta una visione che secondo me è molto profetica sulla quale si può discutere in modo calmo in modo sereno mettendosi tranquillamente intorno a un tavolo senza animosità non con quelle buttate da facebook che sono assolutamente insufficienti per parlare di queste cose ecco ecco il papa intanto usa twitter che cosa ne pensa è uno strumento anche quello importante ormai sembra che la chiesa si adeguata proprio alle nuove tecnologie in realtà poi in provincia abbiamo anche delle persone dei sacerdoti che stanno investendo proprio in applicazioni come Don Padrini di Tortona peraltro che studia applicazioni dedicate proprio all'iPhone all'iPad eccetera quindi voglio dire è uno strumento anche quello ormai di comunicazione sì sì certo è uno strumento importante e io uso talvolta ai breviari di Padrini e anche altre cose uso molto io sono su facebook ho fatto un profilo pubblico su facebook Mons Guido Gallese diciamolo pure assolutamente perché un sacco di gente mi ha chiesto amicizia chiedo scusa a quelle a cui non la do ma ho deciso che non do l'amicizia alla gente di Alessandria perché poi sconfinerei sul numero non si può più gestire il profilo privato con troppe persone allora ho fatto il profilo pubblico in modo tale che così possa essere in contatto con le persone sono anche su twitter e tutte queste cose qui la chiesa ci crede a queste cose è un po' singolare riuscire a passare certi contenuti in 140 caratteri è molto difficile ho visto un po' i tweet del Papa sono molto semplici e non è banale riuscire a comunicare in questo modo però la chiesa si adegua ecco io credo che anche questi siano mezzi di comunicazione molto belli da usare che arrivano direttamente tra l'altro che è una comunicazione che tra l'altro coinvolge direttamente i giovani allora andiamo in pubblicità e poi parliamo ancora di altro siamo a Natale quindi a questo punto visto che magari abbiamo un po' destabilizzato su eccellenza parlando di molto altro adesso poi andiamo sul Natale pubblicità e poi ancora l'informazione ancora ben ritrovati da Fabrizio Laddago siamo sempre su Radio Gold siamo in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Guido Gallese Vescovo di Alessandria Eccellenza abbiamo lasciato per ultima nell'ultima parte il Natale perché è una delle feste più importanti in assoluto però mi correga se sbaglio non è la festa forse più importante nell'arco dell'anno perché per chi è religioso è la Pasqua è vero? Certamente la Pasqua per noi è il massimo del massimo e poi viene il Natale mi piace questa definizione prego soltanto che diciamo che popolarmente il Natale viene percepito in modo molto più immediato perché la Pasqua fa riferimento a un elemento scomodissimo la morte e per carità questo discorso sulla risurrezione bello però se dobbiamo prima passare attraverso la morte per risorgere va bene ne parliamo dopo siamo un po' scaramanti e quindi viene sentita meno la Pasqua popolarmente mentre invece la tenerezza di questo bambino che nasce in una grotta che viene messo in una mangiatoia colpisce tutti assolutamente tutti abbraccia tutti poveri e ricchi poi no? davvero c'è un altro clima oggettivamente poi a Natale lo percepisce anche lei? sì nonostante tutte le pressioni pubblicitarie consumistiche c'è un altro clima la gente quando ha modo speriamo che ne abbia ancora modo di riflettere sul Natale si sintonizza in un altro modo perché in effetti è una festa particolare cioè per noi il verbo di Dio si fa carne la parola di Dio quella per la mezza da quale è stata creata ogni cosa Dio disse sia la luce la luce su fu quella parola si fa carne e la cosa interessante di questa parola che si fa carne lo riflettevo in occasione di questo Natale è un po' la riflessione che mi ha accompagnato di più in questi giorni è che deve imparare a parlare poi nasce il verbo di Dio fatto carne e deve imparare a parlare questo accompagnare gli uomini da parte di Dio è una cosa che è vertiginosa proprio veramente ci fa girare la testa uno dice mamma mia quanto ci ama e quindi è proprio bello pensare queste cose il Natale quindi ci colpisce per questo solo che esige un pochino di silenzio io lo dico lo chiedo anche agli ascoltatori aprite degli spazi di silenzio per pensare a queste cose avete fatto il presepe bene alla sera prima di andare a dormire questa sera spegnete le luci lasciate le lucine del presepe e state un pochino lì a guardare e a pensare se questo Dio così infinito ha voluto farsi uomo ed essere in quella culla per noi una ragione ci sarà non l'ha fatto a caso e dobbiamo pensarci ecco questo è anche un bel modo di vivere il Natale e che tra l'altro è complicato comunque per voi perché come lei ricordava è una festa comunque consumistica quindi c'è questa questa dicotomia tra uno sfarzo forse eccessivo e dall'altra parte questa necessità di riflessione che lei ricordava eh sì 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 noi abbiamo un po' questa concorrenza del consumismo che cerca di distrarre le persone e deve essere una festa familiare ed è giusto che lo sia ed è bellissima è chiaro che quando è una festa è una festa però quando invece tutte le nostre energie sono dedicate alla festa esterna è un po' come se io io dicevo così ai miei parrocchiani io facevo la lotta contro la messa prefestiva di Natale perché si vede tutta la famiglia allora la gente viene alla messa prefestiva e ricordo che in parrocchia quando ero vice parroco tanti anni fa col parroco ci eravamo messi d'accordo e avevamo fatto una campagna tutte le domeniche precedenti mi raccomando non venite alla messa prefestiva di Natale perché è come se per festeggiare il compleanno di una persona tu dicessi guarda devo far da mangiare e quindi ho da lavorare e poi non partecipi alla sua festa perché far festa a Gesù la festa di compleanno di Gesù è andare a messa il giorno del compleanno il giorno di Natale la notte o il giorno di Natale non la prefestiva e quindi facciamo questa campagna e ricordo che io mi toccò comunque la messa c'era mi toccò celebrare questa messa dove capitarono quelli che noi chiamiamo i Natalini quelli che compaiono a messa soltanto a Natale solo Natalini a stento si riusciva a fare in modo che rispondessero alla messa perché la gente che non andava mai a messa alla fine sono arrivato alla fine e ho detto vi devo delle spiegazioni ho detto sapete questa messa è stata un po' fredda magari perché le persone abituali non c'erano perché noi abbiamo chiesto in tutti i mesi precedenti di non venire a questa messa e ve lo chiedo anche per l'anno prossimo allora venite a mezzanotte venite al mattino ma festeggiamo Gesù il giorno del suo compleanno non il giorno prima e l'anno dopo sono tornati? e l'anno dopo non ce l'ho più non ce l'ho più non ce l'ho più perché sarebbe stato interessante capire se c'era ma non c'era un'eccellenza senta invece è sicuramente una festa che fa pensare comunque alle persone in difficoltà e povere tra l'altro lei purtroppo arriva in un momento estremamente difficoltoso per la città delle Sande il dissesto una crisi economica spaventosa ma lei anche anche su questo ha dato delle parole di speranza ha detto non importa perché voi avete la forza ha detto così sì quando sono stato nominato vescovo di Alessandria mi sono studiato un po' la storia di Alessandria ho letto un po' di storia e ho visto che Alessandria ha avuto dei problemi incredibili nel corso dei secoli ha una storia peculiarissima Alessandria perché è nata come città punto primo tardi per noi italiani non dobbiamo farlo sapere questo agli americani perché ci dicono di tutto se diciamo che Alessandria è stata fondata tardi solo nel 1168 per noi però è tardi perché le altre città sono state fondate di solito molto prima molte anche prima di Cristo io vengo da Genova Genova è uno dei primi abitanti dell'Italia sono i Liguri però ed è nata poi subito come dioce sette anni dopo con la cattedrale in costruzione quindi una storia particolarissima è partita a razzo Alessandria ha attraversato tantissimi problemi perché gli eserciti continuano a passare a fare le battaglie lì vicino a essere mantenuti dalla popolazione di Alessandria e quindi è stato oggettivamente molto faticoso e Alessandria si è sempre tirato a sua ha sempre avuto una storia di grande onore di grande dignità e di cose molto belle ha dato natale a persone importanti proprio una bella storia e quindi ce la faremo anche questa volta sono molto sicuro di questo certo dobbiamo fare in modo che ogni svantaggio diventi una cosa buona questa è un'attitudine che l'uomo deve imparare tipicamente Gesù Cristo ci ha insegnato queste cose perché ci ha salvato morendo ha fatto persino della cosa più brutta dell'umanità l'uccisione per tortura del figlio di Dio fatto uomo ha fatto l'evento più grande della storia la salvezza di tutti gli uomini così anche noi dobbiamo imparare a trasformare le cose negative in buone attraverso la solidarietà la vicinanza alle persone che hanno bisogno questo ci fa crescere come uomini e allora la crisi ci lascerà molto migliori di come ci ha trovati eccellenza lasciamo con un augurio anzi un augurio che chiediamo a lei rispetto alla sua diocese e alla città di Alessandria che cosa auspica? io auguro a tutti i fedeli della diocese a tutte le persone che abitano in Alessandria auguro di incontrare questo Gesù questo mistero incarnato in una persona che ha attraversato la storia dell'uomo che ha camminato sulle strade degli uomini auguro di incontrarlo con il cuore e di lasciarsi interpellare da lui il resto verrà allora eccellenza noi le auguriamo buon Natale lo facciamo adesso alla fine di tutto e naturalmente in bocca al lupo anche per tutto quello che verrà ma lei è un amico della sua patria questo è sicuro? un santo Natale a tutti il Signore ci aiuterà e ci benedirà e allora eccellenza gli auguri vanno a lei e a tutti gli ascoltatori sperando anche in un 2013 sicuramente più sereno e tranquillo noi andiamo in pubblicità e poi l'informazione su Radio Golden Grazie a tutti